Direttore, è stata individuata una persona, è stata denunciata, quindi l'incendio alla Palazzina del Calcit era di natura dolosa e con suo commento? Le dico subito che la Commissione, come è noto, non era stata in grado di chiarire le cause e le circostanze del fatto, questo mi aveva indotto a presentare un esposto all'autorità giudiziaria e sono contento che in brevissimo tempo autorità giudiziaria e forze di polizia hanno individuato l'autore del reato. Certo colpisce accanirsi con una struttura di questo tipo? Sì, colpisce come ricorderà, io non ho presentato subito la denuncia perché era una cosa per me incomprensibile che si potesse compiere un gesto del genere, poi alla fine mi sono dovuto arrendere e ho fatto la segnalazione all'autorità giudiziaria. Particolarmente importante è la presenza della videosorveglianza che ha permesso di ricostruire i movimenti quando appunto questo incendio si era verificato. Sì, certo, la videosorveglianza è uno strumento utile che in questo caso ha consentito alla polizia di identificare l'autore del reato.